e i persone maggioreni, però una mail potete mandarmela comunque non vi vieta niente massimo di anni, massimo non lo so 80 ti malefiga un altro vecchio nel gruppo, farebbe spaccare ti piace Napoli? mi piace molto Napoli mi piace molto la pizza che fanno a Napoli perché la pizza la fanno in tutta Italia però la pizza di Napoli è diversa, Napoli è circondario naturalmente, ed è più buona a me piace solo quella, infatti la pizza che fanno qui in Sardegna a me non piace perché è diversa, è più sottile più dura più asciutta, non è che fa schif perché c'è a chi piace, però a me non mi piace poi Napoli è una bella città a me dispiace che spesso viene bistrattata se ne parla male, ma è una bella città di cuore sono tante persone che vengono da Napoli nel corso della storia per esempio Luciano De Crescenzo che voi sicuramente non conoscerete ma era, penso sia morto era un filosofo italiano, molto bravo che diceva che Napoli è una città di cuore perché Milano è una città di mente la gente lavora duro ha una grande etica professionale a Milano a Napoli si è più una città di emozione è bello, ci vuole anche quello se no saremo un paese di tutti i lavoratori senza, no? cioè, niente da togliere ci saranno persone di emozione anche a Milano e persone di grande lavoro anche a Napoli naturalmente, però è bello che l'Italia sia diversa secondo me è una delle ricchezze del paese quella sì De Crescenzo del cognome di mia cugina mi fa piacere